Inaugurata oggi la stagione dell'istituzione sinfonica abruzzese 2011-2012. Come ho detto prima in sede di conferenza stampa, le novità sono sempre le collaborazioni, sempre più ricche. Siamo ospiti di tutto il territorio abruzzese, porteremo la nostra musica dappertutto e la grande novità è il ciclo delle nuove sinfonie di Beethoven in tutti i capologhi di provincia abruzzesi. Penso che è una cosa che non sia mai stata fatta nella storia della musica abruzzese. Novità di quest'anno, la Symphony Card, un connubio tra musica, cinema e sport. La proposta si terrà ridotto del teatro comunale a partire dal prossimo mese di ottobre. Per chi si abbona alla stagione dell'ISA riceverà la Symphony Card, che presentata insieme all'abbonamento darà la possibilità di una riduzione sul biglietto del cinema Mumiclex e una riduzione sull'acquisto di un biglietto per le partite dell'Aquila Rugby. L'intenzione dell'istituzione musicale è quella di creare un interscambio tra gli appassionati di musica, di cinema e di sport in modo da vivere a pieno le proposte del territorio. Una fidelizzazione che parte dalla musica per sposare poi in altre opportunità a disposizione della città dell'Aquila creando un circuito virtuoso per chi vuole vivere a pieno la città. Grazie a tutti. Grazie a tutti.